Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma. Il porto sicuro sono io, me stessa. Lui mi mette in difficoltà, io non so che farci. In set al televoto. Chi vuoi salvare? Grande fratello. Giovedì in prima serata a Canale 5. E live dalla casa su Mediaset Infinity.